Io sono Pino Toro, sono il presidente di AIL Palermo Trapani. Oggi è una grandissima emozione, intanto perché tutta AIL nazionale è venuta con grande entusiasmo qui a Roma e secondo perché il Papa oggi coglie il senso profondo del nostro stare insieme e della nostra missione. Quindi un riconoscimento di grandissima importanza e uno sprone per tutti noi andare avanti e a lavorare sempre di più per chi ha bisogno per portare avanti una sanità a misura d'uomo.